Sono Matteo Giannetti, bassista contra bassista, attivo a livello professionale dal 1995. Se dovessi scegliere una parola per presentarmi, oltre che musicista, userei session man, un termine che di sicuro mi rappresenta molto. Durante la mia carriera ho avuto infatti l'opportunità di partecipare a numerose tournée che mi hanno permesso di suonare in moltissimi paesi del mondo, dall'America alla Cina, dall'Europa al Giappone. Da oltre 20 anni collaboro costantemente con Marco Di Maggio, uno dei chitarristi rock and roll più rappresentativi a livello mondiale. Lavoro anche in altri progetti, sia live che in studio, con artisti nazionali e internazionali come David Foster, Carly Paoli, Ellen Page, Edoardo Bennato, Irene Grandi, Max Gazze. Sono autore dei metodi didattici Lizard di basso elettrico. All'interno dei corsi della Formula College sono insegnante di basso elettrico e inoltre mi occupo dei laboratori di arrangiamento per combo e di tecnica di registrazione in studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.